One. Maestro, maestro Piscopo, buongiorno. Come stai? Buongiorno, buongiorno Monti. Maestro è bello, eh. Devo dire che una delle grandi soddisfazioni dell'essere uno scacchista è proprio quella che c'è questo titolo di maestro, che insomma è... Maestro, maestro. Per me sei maestro in generale, che avete ormai... cioè il momento migliore della mia settimana è quando ci troviamo, dove io poi mi metto qua e assorbo, assorbisco tutto quello che mi dici. E' troppo buono, ma comunque il piacere è reciproco, no? Perché nell'insegnamento trasmettere qualcosa che uno sa o crede di sapere, perché poi gli scacchi sono talmente complessi che è meglio dire crede di sapere, è comunque un grande piacere, no? Sia insegnare che imparare. Se uno impara. Cioè, è stato l'unico dettaglio che aggiungerei, però insomma, in teoria dovrebbe essere... Ma è un piacere insegnare se l'allievo impara, perché se l'allievo non impara, l'insegnare diventa una sofferenza. Esatto, esatto. Senti caro, allora, innanzitutto ho scoperto che tu eri con Romualdo e Maria, nascostamente, ecco non me l'avete detto, che vi ritrovavate segretamente, non so dove eravate, è un torneo di scacchi. Abbiamo fatto una riunione sediziosa, pensando molto a te. In realtà eravamo a tempo, lì dove si è tenuto un fortissimo evento a squadre di tre giocatori, che ha riunito praticamente 350 giocatori da tutta Italia. Ecces.com ha fatto una squadra con Maria Romualdo e un altro amico. Io invece ho giocato nella fascia, diciamo, più alta, la fascia dei maestri, con un mio carissimo amico, che è un ex campione italiano, Duilio Collutis, e un maestro qui di Livorno, Marco Ceccarini, e abbiamo vinto il torneo. Quindi ti dico che insegnare aiuta il maestro a giocare meglio. Io sono stato proprio top scorer dell'evento, ho fatto otto e mezzo su nove, ho pareggiato la prima partita con un maestro giovanissimo, più giovane maestro della storia italiana, e poi ho vinto le altre. Ma grande, ma pazzesca sta cosa. E grandi premi, cioè tipo 10 milioni di monte premi, una roba così. Un po' di più, un po' di più, infatti, no, i premi, a parte la gioia di vincere, il rating, la soddisfazione, c'era una targa, e poi un piccolo premio in denaro, e basta. Sono dei tornei, diciamo, si chiamano semilampo, che hanno una cadenza in tre, più o meno come giochi tu. Noi giocavamo 12 minuti più 3 secondi a mossa. Ah, ok, ok. Wow, grande! Allora, cioè, devo ascoltarti con più attenzione, cioè, non devo pensare il maestro, perché di solito uno diceva, ma il maestro poi non, come dire, a ping pong, io per dire avevo un allenatore, cioè, comunque avrà avuto, non so, 50 anni, 55 anni, cioè, non la tirava dentro più, insomma, quindi era molto bravo, ma come giocatore non era più competitivo. Invece tu sei anche competitivo come giocatore. No, Monti, mi piacerebbe dirlo, ma mi sto avvicinando sempre di più al tuo maestro di ping pong, sono bravo a parole, nei fatti, poi. E perché comunque negli scacchi, diciamo, per essere molto performante ci vuole una forte motivazione. Allora, magari il torneo a squadre, con i miei amici, volevo giocare per me e per la squadra, quindi ho dato il massimo. Altre volte gioco perché è la mia passione, mi diverto, ma non fa niente se la palla non va dove dovrebbe andare. Ho scoperto che abbiamo un pubblico molto affezionato a questa serie, non avrei mai immaginato, ma ho scoperto che il pubblico è molto affezionato e è molto affezionato a te, anzitutto tu hai preso solo complimenti. Ho visto un commento di una persona che abbia provato a dire, ah no però, guarda che invece... No, 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 zero. Cioè tu, neanche sinner, io tu hai stato sinner anni fa e nei commenti si va a vedere, c'è gente che dice, eh però il dritto, capito? Cioè il dritto cosa che quando la tocca si sente solo un rumore. Però, quindi è incredibile come i leoni da tastiera esistono, ma nel tuo caso zero. Nel mio caso invece ti evito i commenti, insomma, se la mia capacità scarchistica, ma devo dire che c'è grande interesse proprio perché ogni volta si impara qualcosa grazie a te e quindi devo dire che questo è super. Una cosa, prima di iniziare, così almeno ne approfitto per dare a memoria storica un report di cosa è successo nella settimana. Questa settimana ho viaggiato parecchio, quindi ho avuto eventi, non sono stato concentrato come al solito. Ho fatto un sacco di esercizi, devo dire. Quindi ho fatto un sacco di esercizi sul pdf che mi hai mandato tu, dove sono lì. È una delle cose più tristi della mia vita perché sto fermo davanti allo schermo, così. Poi ho messo, siccome dopo 30 secondi va via lo schermo, l'ho messo a 5 minuti. Quindi la batteria del mio cellulare ha cominciato a sparire e io osservo, osservo la scacchiera così. Però mi è successa una cosa che volevo dirti, ecco, prima che mi dimentichi. Per la prima volta c'era un puzzle, un problema da risolvere. Esercizio. Un esercizio e non riuscivo a risolverlo. Poi a un certo punto ho spento e mentre stavo facendo il tè ho trovato la soluzione. Che bello, Monti, questa è la più bella cosa che tu potessi dirmi da allenatore e per te è la più bella cosa che potesse succederti. Sia come esperienza, perché è un'esperienza piacevole, è molto bello quando succede questa cosa. Significa che hai vissuto una fase di flow, ti sei immedesimato. L'ho in un qualche modo rivista e la posizione mi si è chiarita. Mi è successo una volta sola, poi basta, poi ho invece delle volte che... Però ti sta muovendo qualcosa. Ok. Cioè, questa prima fase del lavoro, di creazione, formazione del pensiero scacchistico concreto, vuole portare a questa cosa. Quindi il fatto che tu abbia vissuto questa esperienza significa che la tua mente scacchistica si sta modulando, si sta formando. Bene, ecco, basta, volevo solo dire questo, per adesso ho fatto un po' di partite senza, diciamo, infamie e senza lode, sono mantenendo un pochino livello, cioè facendo a volte errori molto stupidi, non so, ecco, una cosa media, ecco, la mia settimana la definirei così. Sì, ho visto le tue partite, infatti il tema forte di oggi sarà proprio la pratica, mettere in pratica gli insegnamenti e vedere come nelle tue partite succedono alcune cose molto interessanti che si possono un pochino, no, aggiustare e probabilmente nella pratica questi aggiustamenti ti daranno degli ottimi risultati. Io ho selezionato un po' di partite, soprattutto col bianco, che comincerei a vedere. Adesso sveliamo tutti i segreti di Monti, così per i suoi avversari avremo un nuovo pubblico numeroso, che sono i futuri avversari di Monti che vogliono vedere quello che gioca. Allora, Monti comincia col pedone di donna, vedete, questa è la posizione iniziale, ci sono vari modi per iniziare la partita, no? E probabilmente il più famoso è quello col pedone di re, la spinta di questo pedone, che ha il vantaggio di occupare il centro e liberare la strada all'alfiere e alla regina. L'altra mossa che libera la strada all'alfiere e alla regina è quella col pedone di donna, che ha il vantaggio che il pedone è già difeso. Quindi tradizionalmente si è sempre detto che il pedone di re, l'apertura di re, è un'apertura più d'attacco, un pochino più aggressiva, mentre d4 è un'apertura un po' più solida. Ovviamente poi dipende da come si interpretano queste fasi. Dopo d4, in questa partita il nero ha risposto con una difesa un po' rara, che è la cosiddetta difesa olandese, cioè il pedone viene messo qui per controllare la casa e4. Ora Monti, prima cosa fondamentale, che nelle tue partite succede molto spesso, il pedone F. Allora, all'inizio della partita non tutti i pedoni, non tutti i punti sono uguali. Già nella posizione iniziale ci sono due debolezze enormi, per il bianco e per il nero. Quali sono secondo te i punti più deboli nello schieramento bianco e nero? Sono speculari, eh? Non ho la più palida idea. F2 ed F7. Perché sono i punti difesi unicamente dal re. Ok. E quindi più vicini al re. Da questo discende uno dei tanti paradossi degli scacchi, che è quello della vittoria più veloce, che in realtà è la sconfitta più veloce. Tu lo sai qual è la vittoria più veloce che esiste negli scacchi? No. Negli scacchi, allora, ti faccio una domanda basata sul buonsenso, no? Vincerà secondo te la partita più veloce, il bianco o il nero? Il bianco perché muove prima. Ovviamente. E ovviamente è sbagliato, sei caduto nel trabocchetto. La vittoria più veloce può ottenerla il nero. Il ragionamento è bellissimo. Ah, giusto, giusto, giusto. Perché il bianco muove prima, si scopre prima. Bravo, il bianco muovendo per prima può per primo fare gli errori più gravi che esistono. La peggiore apertura che esiste al mondo è questa qui, F3. Il nero muove il pedone, non importa. Il bianco gioca G4 e qui Monti che facciamo? Regina H4. Donna H4 matto. Questo è noto come scacco matto degli imbecilli. Ok. Tutto ciò per dire che l'utilizzo del pedone F in apertura è qualcosa di estremamente pericoloso. Per esempio, una delle varianti giocate da Kasparov contro l'olandese era basata su questo giochino. Kasparov metteva l'alfiere qui, così se venivi col cavallo te lo mangiava, provocando dei pedoni doppiati. E se il nero cercava di intrappolare l'alfiere, vedete che l'alfiere del nero è rimasto intrappolato. Qui che mossa faresti Monti? Utilizzando l'idea che ti ho dato prima. Pedone 3. Bravissimo. Bravo, 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 bravo. Ignoro completamente l'alfiere e esco con la regina. Arrivederci, grazie. Donna H5. Molto bene. Vedete come una cosa astratta è diventata completa. Dopo E3 il nero deve difendersi dal matto, presumibilmente farà questa mossa, e il bianco salva l'alfiere e addirittura vince un pedone. Giusto. Quindi, occhio tutto questo perché ti sto facendo tutta questa spiegazione. Perché capita nelle tue partite che utilizzi il pedone F. Però bisogna sapere che l'utilizzo del pedone F è qualcosa di eccezionale. Cioè non è qualcosa di normale, è qualcosa di straordinario. Va giustificato in qualche modo. Qui il nero se lo può permettere proprio perché il bianco ha fatto D4. Se il bianco avesse fatto E4, F5 sarebbe disastrosa. Adesso sto già minacciando quasi matto. Chianghi. Quindi D4 porta un gioco un po' più tranquillo, il nero addirittura può fare F5. E tu hai sviluppato molto bene i pezzi. Cavallo C3 per fare E4. Qui, scusami Piero, avevo visto questo videocorso di Neiman, e lui aveva un G4 molto aggressivo subito, con sacrificio di pedone per aprire quella colonna G, in sostanza. E a volte provo a replicare qualcosa del genere. È una delle mie favorite. Allora, il gambetto con G4, io lo gioco così, però è una cosa un po' strana. Può non piacere a tutti quanti. A me piace giocare una mossa un po' curiosa, come donna D3, all'inizio. Attacchi il pedone F. Se per esempio D5, a quel punto giochi G4. E su F per G, H3. Sacrificando. Perché per esempio su G per H3, mangi d'alfiere e hai già una forte convergenza contro il punto H7. Con la donna e la torre. Esatto, esatto. E eventualmente anche col cavallo. E l'alfiere anche. Poi puoi svilupparti rapidamente cavallo C3, alfiere F4, arrocco lungo. Diciamo, questa è una posizione molto vantaggiosa per il bianco. Ok. Però cavallo C3 che hai giocato va benissimo. Ok. Io sto, diciamo, sulla mia Giobava in questo caso e cerco di... No, ma è perfetta. Soprattutto perché lui gioca D5 e qui si indebolisce la casa D5. Questa è una casa che non usi molto. Nonostante proprio nella Giobava sia fondamentale, ancora non ti è venuto il riflesso che questa casa è fondamentale. Comunque vediamo la partita. Tu fai E3. Ottima. Ottima mossa di sviluppo. E6. A3. Già qui per esempio. Allora. Cosa importante. Dimmi. Qui io tendenzialmente... Io so che B5 avrebbe senso qui, ad esempio. Alfiere B4 vuol dire? No, cavallo B5. Ah, cavallo B5. Certo. In tutte le Giobava vedo sempre, boh, cavallo B5, come dire, è un'opzione. Il problema che ho è che quando poi tipicamente mi succede alfiere D6... Ah, alfiere D6 è già una concessione, già alfiere D6 è una mossa che non deve preoccuparti, perché come minimo ti sei mangiato un alfiere. No, è vero. Lui a quel punto mangia con pedone e io poi mi ritrovo però in questa posizione dove lui ha pedone e 5 e io inizio ad andare indietro e mi sono sempre messo male. Soprattutto se ti ritrovi, diciamo, con i pezzi messi così, che sono attivo di forchetta. E poi mi fa un fork e a quel punto perdo un pezzo. Questo è un classico che ho fatto miliardi di volte. E allora evito e dico, aspetto un attimo... Sì, perché comunque il cavallo B5 stai perdendo un bel po' di tempi, no? Tu hai fatto una mossa, due mosse e tre mosse e il nero ha fatto soltanto alfiere D6, quindi stai regalando due tempi all'inizio al nero. Per questo motivo non funziona perché l'idea sarebbe anche buona, ma in effetti cavallo B5 è molto forte quando il nero è costretto a fare cavallo A6. Quindi come regoletta empirica, se ha la tua cavallo B5 la risposta non è cavallo A6, se il nero ha altro, forse non ti conviene farlo. Ok. Ok? Che succede? Succede che tu giochi A3 però, cioè A3 dal mio punto di vista è una mossa assolutamente non necessaria. Perché giochi A3? Gioco A3 perché ho sempre paura che mi arrivi l'alfiere, mi pinna e poi quello che succede è alfiere B4. Ok, allora facciamo finta che io gioco col bianco le mosse più naturali e tu giochi col nero, ok? Ok. Io faccio cavallo F3 perché voglio andare in I5, mi sembra la mossa più naturale. Alfiere B4? Ok, io faccio alfiere D3 perché voglio sviluppare l'alfiere e arroccare corto. Ok, e poi la mia idea è che scende il cavallo in E4 e mi dà fastidio. Esatto, cavallo E4 e a quel punto mi ritrovo lì e dico, boh, e adesso? Ok, guarda il mio approccio Monti. Sì. In questa posizione l'unico problema che ho è giustamente l'inchiodatura sul re. Sì. Questo è il problema. Sai come si spezza nel modo migliore l'inchiodatura? Arroccando. Arroccando, bravo. Però a quel punto mi si apre, mi rovina la struttura dei pedoni. Ma non è importante perché ti può anche mangiare un pedone. Qui hai perso un pedone e ti ha rovinato la struttura, giusto? Esatto, sì. Ok, però stiamo giocando la fase della partita che si chiama apertura. In apertura conta sviluppare i pezzi e mettere il re al sicuro, ok? Quindi io ho fatto quello che dovevo fare, tu no. No, in questa posizione il nero probabilmente fra poche mosse abbandona. Vedi? Io vedo questa posizione e per me sono un pelo in difficoltà. No, il nero qui è stato troppo, diciamo, ghiotto. Si è andato a mangiare questo pedoncino. Ma il bianco ha già finito lo sviluppo. Probabilmente arroccherai a un certo punto e qui il bianco deve soltanto trovare il modo di riuscire a fare breccia nella posizione. Nel momento in cui la posizione si aprirà un pochino e ci sono tanti modi, per esempio spingendo in C4 posso fare una mossa come torre B3, ti faccio mettere l'alfiere male e comincio a fare C4. E a un certo punto il nero farà fatica a tenere insieme la sua posizione. Perché non ha abbastanza pezzi usciti fuori. Interessante questo. Ancora è chiusa, ancora è molto chiusa, quindi c'è tanto da giocare. Ma inevitabilmente le posizioni poi si aprono a un certo punto. E quando si apre contano i pezzi che stanno giocando. Cioè qui il bianco che deve fare? Sposterà la donna, probabilmente. Cavallo e 5. E io diciamo, a un certo punto, che ne so, se il nero si difende passivamente, sposterò la donna. Poi faccio giocare anche l'altra torre da qualche parte. E poi a un certo punto c'è tutti i pezzi che giocano. E per il nero diventa molto molto difficile giocare. Ok. Ok. Quindi è chiaro che uno non vuole subire l'inchiodatura. Però se all'inchiodatura puoi velocemente reagire con l'arrocco, va benissimo. Oppure, l'altra strategia, dici, vabbè, non fa niente. Mangio questo e ce la giochiamo così. Poi mi arrocco lo stesso e pazienza. Ok. E non perdo neanche un pedone in questo caso. No. No. Nella giobbava a volte a 3 è molto buona perché il nero fa fatica a sviluppare l'alfierino F8. Quindi gli togli una casa molto buona per l'alfiere. Semplicemente per quello. Non è tanto legato. È proprio che l'alfiere ha difficoltà a essere sviluppato. A 3 diventa una parte del tuo piano strategico. Non una mossa buona. Ma generalmente la priorità va data allo sviluppo. Non mosse di pedone laterale. Ok. Quella invece la gioco spesso perché per quella paura lì basta. Non la gioco più. No. Prova a fare. Diciamo tu l'importante è che quando ti inchiodano sai che arroccherai molto velocemente. Ok. A quel punto l'inchiodatura non è affatto un problema. Ottimo. Tu giochi a 3. Alfiere D6. Cavallo H3. Originale. Si può fare. Non è male. Perché ho pensato vado a ricatturare col cavallo. E qui ho sempre il dubbio. Non so mai se lo dovrei mangiare, quell'alfiere che esce in D6. Ok. O se invece me ne frego sviluppo e se lui mangia io rimangio col mio pedoncino in F4. Sì. È meglio non mangiarlo. È meglio non mangiarlo perché la ricattura di un pedone verso il centro rafforza il centro. Qui se tu mangiassi sarebbe un errore strategico perché mangiando controlla questa casa. Giusto. Giusto. Io qui avrei fatto cavallo F3. La più semplice. Se mi vuoi mangiare prego mi mangi e poi userò questa colonna che è diventata semi aperta per attaccare E6. Ok. Però cavallo H3 è una buona mossa. Qui sei coerente, mangi col cavallo. H4 anche qui stesso ragionamento fatto per A3. È una mossa laterale di pedone. Allora all'inizio della partita le mosse laterali di pedone devono essere veramente necessarie. Non giocate così a cuo leggero. Cioè qui tu devi decidere la cosa più importante dell'apertura che è dove arroccare. Dove arroccare lungo o corto? Ma visto che si è messi così forse arroccherei lungo perché almeno posso rilasciare le mie forze dal lato del re. Ok. Se vuoi arroccare lungo che mossa devi fare? Devo mollare. La regina la devo togliere. Brava. Cioè l'arrocco è sempre prioritario. Ok? Se tu non hai deciso dove arroccare è inutile che fai altre cose. Ok. Quindi una regina, anche una regina F3 potrebbe essere sviluppo la regina. Bella mossa. Bella mossa. Già. Bella mossa. O per esempio donna D2 o donna D3 o donna E2. Qualsiasi mossa, poi stabilisci quella che ti piace di più. A me credo che sarebbe piaciuta di più donna D2 in questa posizione. E poi faccio arrocco lungo, poi eventualmente faccio F3 e preparo la spinta in G4 per aprire il gioco sul lato di re. Perché D2 ti piace di più? Perché non ho molta paura di cavallo E4. Credo che ti mangio semplicemente e poi posso fare arrocco lungo. E poi c'ho sempre F3. Mentre con la donna in F3 o in D3 qualche volta mi prendo cavallo E4 e quando il nero rimangia mi sta attaccando la donna. Non lo so, ma questa è più una questione di naturalezza. Non lo so, mi sembra proprio naturale la mossa donna D2. Ok, hai fatto un commento come Icaru quando gli hanno chiesto ma perché tu sui finali fai queste mosse? Mi sembrano le mosse migliori, mi sembrano. H4, H6 è una mossa molto sbagliata, H6 è proprio molto 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 non soltanto inutile ma molto rischiosa perché indebolisce la casa G6. Qui sono case vicino al re, bisogna stare attenti. Cioè il nero è stato un po' allegro, già ha spinto il pedone F, spinge anche il pedone H. Ecco, qui possono succedere cose spiacevoli. Ecco, di nuovo, non hai ancora roccato, non hai sviluppato i pezzi, stai continuando a muovere lo stesso pezzo. Quindi Monti, mosse laterali con i pedoni, mosse col pedone F, mosse con la donna, muovere due volte lo stesso pezzo. Questi sono proprio il riassunto fondamentale di quello che all'inizio va fatto con grande cautela. Ok. Ok? Cioè questo cavallo già l'hai mosso, perché lo stai muovendo ancora? Come è stato? Vado un po' a rompergli i coglioni, questo cavallo c'è. Sì, questa è una buona idea, però fatta senza pezzi, no? Certo. Se invece la prepari, immagina che fai donna D2, arrocco lungo, F3, per esempio, faccio giocare soltanto il bianco, ok? Il nero fa sempre mosse a casano, ok? Mi metto così, sviluppo l'alfiere, metto una torre qua, faccio G4, ok? Vabbè. Adesso la tua mossa ha tutto un altro significato. La stessa mossa fatta con dietro tutti i pezzi potrebbe essere già una mossa vincente. Chiaro. Se ti mangia, apri la polonna G, a quel punto, eh. Certo. Chiarissimo. Quindi mi porto a casa il concetto che devo, oltre a non muovere, diciamo, oltre ai pedoni, per riepilogare, pedoni laterali a meno di straordinari eventi cataclismatici lascio perdere. Non mi devo preoccupare se mi pinnano nel momento in cui posso arroccare. Priorità all'arrocco, quindi decidere prima la priorità all'arrocco. Sviluppare i pezzi, non muovere i pezzi, lo stesso pezzo, 67 volte. E soprattutto cercare, prima di andare a, come dire, inoltrarmi in qualche tipo di attacco, avere un supporto di pezzi che possano supportare quel tipo di attacco. A meno che sia il matto dell'imbecille, dove chiaramente dici, ok, vado perché è matto e fine la storia, insomma. Esatto. In tutte queste cose, fra tutte queste, la più importante è decidere dove arroccare. Questa è una cosa proprio tipica di chi inizia a giocare a scacchi, cioè di essere un po' diffidente verso l'arrocco. Ah. Su che base decidi dove arroccare? Lo decidi, cioè va bene, è chiaro che ci sono poi dei segnali, no? Cioè se il nero ha per esempio la colonna B e C aperta, andare a fare l'arrocco lungo sarebbe quello che un mio amico scherzando diceva fai l'arrocco sul lato del cimitero, a quel punto un po' no? Non è tanto buona come cosa. All'inizio della partita fondamentalmente va bene sia arroccare corto che lungo. Io come criterio userei dove fai prima. Prima arrocchi meglio è. Va bene. Ok, cioè questa è proprio una cosa talmente semplice che viene sottovalutata. Un po' come lo scacco matto, che è talmente semplice che viene sottovalutato. Bisogna arroccare prestissimo, sbrigarsi. Ok, è inutile fare altre cose se non arrocco. Devo per forza arroccare. Ok. Quindi priorità quello. Sì. Poi la partita continua, diciamo, entra in una fase un po' più tattica in cui hai realizzato senza particolari problemi, o meglio, stavi realizzando senza particolari problemi. Qui sono saltato e ho fatto un salto. Ah, possiamo mostrare quello che succede rapidamente. L'avversario di Monti si è fatto un po' il retire da questa manovra. Cavallo e due mi è piaciuta, buona. Questa è una bella mossa. Mettiamo un punto esclamativo perché te lo meriti. Non so perché l'ho fatta, ma... No, il senso è che poi farai F3 costringendo il cavallo ad andare via e praticamente abbiamo guadagnato un tempo per riposizionare il cavallo che in C3 non stava facendo niente. Adesso lo puoi portare in F4 e stai effettivamente molto bene. F3 interessante, crea un gioco tagliente. Bella, anche cavallo F4. E lui qui ha fatto un grosso errore perché non ha visto che il pedone G6 è in presa. Comunque era già molto delicata la posizione del nero. E poi è tutto aperto, cioè lì... Lì non so perché non abbia mosso la torre, ma il re. Non se ne è accorto. Penso che semplicemente non se ne è accorto. Qui giustamente arrocchi. Qui ha giocato proprio molto bene. Fai G4 sfruttando l'inchiodatura. Questa è una partita molto ben giocata, finché poi non succede purtroppo il fattaccio. Cioè qui vai avanti con la donna, proponi il cambio, ottima tecnica. Hai vantaggio di materiale, quindi cambiare le donne rende più facile la vittoria. Questo lo dicevamo un'altra volta. Che succede? Ti vai ancora a mangiare un pezzo, per cui il vantaggio è enorme. Però consiglio pratico. Abbiamo detto oggi la parola chiave è pratica. Quando tu hai la donna in difesa, guardati sempre un pochino bene da quello che può succedere. Cioè i pezzi più importanti, il re e la donna, quando tu vedi che il re è sempre in difesa, ma quando la donna è in difesa diffida dalle mosse tattiche. O pensaci molto, molto. Qui tu hai 5 minuti, lui gioca al fiere di 7. Tu ci pensi anche perché dici, ok, effettivamente al fiere per f5 nascono delle complicazioni, eccetera. Questa è una partita completamente vinta. hai addirittura una torre in più. Allora dal punto di vista pratico, come si vince una partita con la torre in più? Si vince riducendo al minimo il rischio di blunders. Ok? Cioè basta capovolgere l'ottica. Non è che per vincere una partita con una torre in più devo fare qualcosa. No, basta che faccio capire al mio avversario che non gli lascerò la donna in presa. A quel punto quello, se è un minimo, sa giocare, abbandona. Se vuole arrivare fino alla fine, andiamo fino alla fine e vinco senza difficoltà. Quindi qui, per esempio, che mossa fai per fargli capire che non sbaglierai più? L'unica difficoltà che hai è questa donna, no? Certo. Io, mi avevo ricorso questo match, la mia idea iniziale era andare giù in f8, avevo visto quell'opzione, ho detto, boh, ci siamo. Però vorrei cambiare le donne. Non penso di aver fatto C3 perché non volevo poi nel caso rimangiare e avere, doppiarmi i pedoni, avere la... Ah, però quando hai un vantaggio di materiale così grande i pedoni doppiati non significano niente. Cioè fai conto una torre in più, una torre in più significa che stai vincendo 6 a 0 a calcio, ok? Wow. Facendo donna C3 da 6 a 0 passi a 4 a 0 però non siamo più al primo tempo, siamo a 10 minuti dalla fine. Ok. Quindi hai sacrificato un po' del tuo vantaggio per avvicinarti alla fine. Basta, qui è finita. Quindi puoi usare questo spirito pratico che ancora un pochino ti manca, giustamente perché è legato all'esperienza. Non ha senso vincere la partita 12 a 0, tanto la partita è vinta comunque, no? Se ti dava fastidio il fatto che i pedoni sono doppiati non è un vero fastidio. Perché rispetto al fatto che le donne non sono più in gioco è molto più importante. Giusto. Anche perché il rischio poi dall'altro lato è che fai una cazzata clamorosa e perdi la donna. Certo, certo. Tolto questo... Che io non posso aver fatto, immagino, questo match. Eh, l'hai fatta, l'hai fatta, l'hai fatta. È un classico. Tolto questo rischio è finita, capito? Poi dopo ti diverti. Se lui non vuole cambiare le donne magari viene qua. A questo punto possiamo fare tante mosse basate su questo tema tattico. Per esempio cavallo E6 mi sembra la più pulita per vincere la partita. Poi ti diverti, ti diverti davvero perché sono posizioni molto molto brutte per l'avversario e a quel punto devi soltanto trovare la zampata vincente. Magari ti mangia il pedone se vogliamo sempre divertirci qua possiamo fare una mossa basata sulla cosiddetta interferenza. Blocchiamo il raggio d'azione della donna rispetto al cavallo e alla mossa successiva quando mangiamo facciamo matto. Chiaro. Questa era molto elegante coach a me non sarebbe però è chiaro però tutto parte dal fatto di dire togliamo di mezzo le donne così esattamente la portiamo a casa e poi vediamo come dire gli step successivi. Invece hai voluto subito fare alfile per F5 che alla fine hai perso un pezzo pazienza e purtroppo non ti sei accorto che il cavallo inchiodato e hai perso la nuova. Che cazzata clamorosa. Grosso grosso errore. E la cosa bella è che poi sei riuscito comunque a tirarla su perché il suo re è debole e qui c'è stato un tema di scacco perpetuo. Cioè lui non si è fidato di scappare col re giustamente perché se fosse venuto sulla colonna G io volevo andare a prendere la donna certo. Esatto. Qui sei riuscito a tirar fuori un buon pareggio. Secondo me in questa posizione forse potevi anche fare il furbo fino in fondo e cercare di giocare per vincere. Molto rischioso ti deve aiutare il tuo avversario però se avessimo due torri sulla colonna G per esempio faccio una mossa per difendere il matto qui faccio una finta che il nero impazzisce e faccio due mosse se toccasse a me farei matto. quindi forse qui il nero sarebbe in difficoltà. Non è detto può ancora difendersi con torre G8 probabilmente e la partita sarebbe credo ah no qui c'è un problema si è persa perché può venire qui e quando fai scatto si mangia la torre. Chiaro. diciamo che hai ottenuto un mezzo punto molto sudato e molto buono a questo punto. wow già ho una serie di concetti che mi devo scrivere adesso che sono rilevanti. Che succede in questa partita guarda che succede ok cominciamo sempre con l'inizio no Giobbava va bene Alfiero F5 E3 E6 A3 allora quello che ti dicevo prima in questo caso A3 in effetti è una buona mossa mi piace A3 perché se no è troppo facile per il nero sviluppare questo alfiere qui in B4 quindi in questo schema preciso la mossa A3 ci può stare non è male come come idea ok e e perché invece prima non lo era prima non lo era perché diciamo era un po' non c'erano grossi problemi nello sviluppare l'alfiere l'alfiere F8 cioè diciamo qui che cosa vuole fare il bianco il bianco qui vuole fare probabilmente F3 e cominciare un attacco prendersi dei vantaggi e al momento giusto farà Rocco Lungo giusto? esatto fare il mio on storm esatto 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 quindi A3 in quest'ottica è una mossa molto utile anche perché stai scoraggiando C5 se fai subito F3 probabilmente alfiere B4 risolve un po' di problemi del nero perché siccome tu ti stai lanciando in un gioco un po' d'attacco aver creato questa inchiodatura è fastidioso perché poi tu vorrai arroccare lungo qui non è facile no non è facile non è facile più lungo certo invece A3 è una mossa che prepara tutto questo gioco su C5 l'idea è cavallo B5 cioè A3 è proprio molto importante perché che fa il bianco il nero qui se fa una mossa come alfiere E7 a questo punto il tuo Pondstorm è molto più al sicuro perché non c'ha questa alfiere B4 tu farai donna D2 arrocco lungo cioè tutti i pezzi messi bene è una finezza diciamo cioè la differenza è fra una mossa concettualmente sbagliata perché A3 rimane una mossa concettualmente sbagliata all'inizio in uno schema preciso diventa invece una finezza perché è legata al fatto che su C5 hai cavallo B5 yes domanda tipicamente quello che succede è che in questo caso nell'80% dei casi mi esce alfiere D6 sì e anche lì non so mai se mangiare o non mangiare non devi mangiare non mangio no allora tu continui di solito sempre col Pondstorm no? che mi sembra una idea interessante io su alfiere D6 non ti so dire esattamente cosa farei perché cavallo F3 non è male però F3 mi sembra oggettivamente la più tagliente credo che farei anch'io F3 con l'idea di fare G4 e lì quello che succede mangiano ma se mangiano sei contentissimo se mangiano io mangio e poi vado Pondstorm vado G4 H4 sì ma sempre donna D2 arrocco lungo capito? io in una posizione del genere G4 la faccio va bene ma poi donna D2 arrocco lungo sono le mosse successive perché devo comunque prima arroccare poi dopo passerò all'attacco decisivo ah ok questa mi piace questa trasformazione mi piace molto sempre perché il nero fa fatica a fare la mossa C5 che sarebbe la sua mossa giusta per avere contro gioco e noi col bianco abbiamo tutta una serie di idee basate appunto su G4 ok e il nero qui francamente è in difficoltà non c'ha tante cose buone da fare donna D2 arrocco lungo e tutti i pezzi del bianco sono pronti a giocare questa succede molte volte infatti ho visto tante partite con questa con questa sequenza qui che succede lui fa alfiere E7 F3 giustissima ah no questa è un'analisi lui fa C5 cavallo B5 ecco prima cosa perché D per C5 perché ho paura che lui vada in C4 ah hai capito e mi chiuda la protezione del cavallo e mi ritrovo questo cazzo di pedoncino lì e ho il cavallo che a quel punto mi si smarrisce nel nulla e in più non posso neanche mangiare il suo cavallo in A6 con il mio alfiere ok e quindi che ci faccio no 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 allora qui per esempio cosa possiamo fare intanto non credo che vuoi arroccare lungo qui no bella domanda non lo so in teoria se poi attacco con i miei pedoni dal lato del re sì andrei a arroccare lungo è però un po' strano perché il nero probabilmente ha già la colonna C sta già attaccando C2 capito facciamo finta donna D2 alfiere E7 arrocco lungo arrocco tu vuoi fare il tuo attacco no sì va bene ti mangio qui probabilmente vuoi mangiare col pedone sì e sono io che attacco per primo vedi era quello che ti dicevo prima devi guardare dove stanno no le colonne potenziali qui su cavallo C3 devi fare alfiere D3 ovviamente se torni indietro col cavallo addirittura c'ho tutta una serie di temi d'attacco qui stai già perdendo la partita chiaro però in questo caso quindi la mia idea di storm attack salta subito e salta subito l'idea di storm attack è buona quando il centro è chiuso si dice quando il nero non sta proprio aggredendo la posizione ok se vedo già un C5 inizio a pensare che forse non ha senso arroccare lungo e cerco di andare dove invece sono più protetto qui la bellezza di questa posizione sta nel fatto che il cavallo in A6 è ridicolo perché non può andare da nessuna parte quindi probabilmente dobbiamo soltanto sviluppare i pezzi in maniera naturale C3 C3 non sono tanto fan di C3 perché non potresti più tornare indietro col cavallo e poi anche C4 mi piacerebbe come mossa io qui credo che comincerei a sviluppare i pezzi forse alfiere 2 cavallo F3 la mossa C4 non è assolutamente da temere facciamo vinta che faccio alfiere 2 e tu fai C4 l'importante è che non arrocco lungo perché se arrocco lungo mi prendo l'attacco con i pedoni ma io a questo punto voglio semplicemente continuare a sviluppare i pezzi farò cavallo F3 arrocco corto dopo aver arroccato faccio la mossa a B3 tra l'altro non devo fare donna D2 scusami faccio subito alfiere 2 in questa posizione donna D2 non ha nessun senso cancelliamo donna D2 donna D2 ha senso per fare l'arrocco lungo farò alfiere 2 e probabilmente farò cavallo F3 arrocco arrocco e il nero fa molta fatica a giocare qui e c'è un cavallo che non torna ok a parte quel cavallo per il resto mi sembra una posizione assolutamente simmetrica si gioca su questo piccolo vantaggio tra l'altro la mossa A3 per dirti quanto è profonda la mossa A3 serve anche a impedire cavallo B4 perché dopo l'aver arroccato il nero potrebbe fare cavallo B4 e se fai cavallo C7 sposta la torre e pazienza sta bene chiaro ok quindi io non lo mangio in C5 non mangio no un ulteriore trucchetto in queste posizioni è molto buona la mossa H3 sembra che sto contraddicendo costantemente quello che mi hai appena detto che c'è no io non lo tocco non lo tocco quel pedone non tocco più perché 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 il nero potrebbe a un certo punto farti cavallo H5 e se toglie l'alfiere ritrova libertà per il cavallo che è il nostro tema strategico quindi probabilmente in questa posizione io farei prima H3 e poi cavallo F3 se cavallo H5 è il fiero H1 e addirittura sto minacciando pure la forchetta con G4 è una chicca clamorosa sono finezze capito se sai perché lo stai facendo però sai questo fa un'enorme differenza perché poi basta una mossa che sposta completamente l'equilibrio sin dall'inizio esatto esatto proprio così ma quando fai H3 il concetto di fondo è che tu sei arrivato a giocare certe mosse avendo già assimilato qualcosa come almeno 150 anni di scacchi ok però effettivamente tu non hai visto quello che c'è stato prima hai visto soltanto il risultato finale H3 ok cioè H3 in realtà è una mossa eccezionale è una mossa che non si gioca non si dovrebbe giocare è una mossa che funziona per una serie di motivi che è profonda per tutta una serie di motivi ma altrimenti non sarebbe una buona mossa chiaro e questo in tante cose è così ok quindi diciamo io voglio darti delle idee generali che ti permettono di capire perché una mossa non buona diventa buona sai anche il motivo per cui quando lui gioca C5 io mangio perché nella mia testa c'è ok adesso attacco e faccio il mio pawnstorm quando l'alfiere poi finirà giù in G6 o H7 se io ho un pedone in C4 non posso più muovere il mio alfiere in D3 per per avere questo scambio che tipicamente è lo scambio che voglio avere e ho capito hai capito e quindi questo in più non riesco a proteggere di là esce la regina e ho il problema e quindi da lì dico aspetta mangio e mi tolgo quel problema lì ok la verità è che è proprio sbagliato l'approccio perché già in questa posizione dovrei dire rinuncio al fatto di fare pawnstorm arrocco corto e proprio cambio l'approccio esattamente iniziale che avevo bravissimo bravissimo esattamente quello che stavo hai detto tu quello che stavo per dire io si devi modulare devi avere più strategie ok tu finora hai usato molto alcune strategie dirette come pawnstorm sono buone ma non sempre non puoi usare soltanto una strategia giusto quindi sarà anche più bello per te giocare perché comincerai a dire vabbè ma quindi che faccio arrocco corto arrocco lungo pawnstorm qui il vantaggio è cavallo fuori gioco è un vantaggio strategico non è un vantaggio che ti darà un attacco è un vantaggio che si vedrà molte mosse dopo quindi d per c5 cessione del centro questo assolutamente non va bene come quasi e poi guarda questo errore gravissimo f3 chiaro cioè f3 in una posizione chiusa per esempio facciamo finta che qui il nero gioca a 6 per preparare c5 che è una mossa ragionevole giusto f3 qui va bene perché la posizione è chiusa dopo c5 d per c5 questo è un concetto difficile Monti non ti preoccupare chiuso e aperto negli scacchi un po' difficile qui la posizione è aperta significa che presto ci saranno delle linee contro il re e abbiamo detto che il pedone f è un pedone eccezione che non va toccato mai salvo motivi particolari cioè io qui ti faccio arrocco spingo i n5 e vinco la partita tu hai fatto g4 ok alfiere g6 h4 donna a 5 scacco che non ha grande significato io probabilmente qui penserei a come aprire la colonna il più rapidamente possibile se fare subito i5 o se fare torre forse ti faccio torre 8 chiaro è rischiosa perché c'hai h5 diciamo il gioco qui ha già una natura tattica anche il nero è stato un po' no? qui si sta facendo fare g4 h4 ok deve comunque fare h5 per bloccare questo attacco questa comunque va fatta però siamo in una situazione in cui il tuo è il tuo pawnstorm comunque non arriverà a buon fine perché c'è questo un conto se il pedone stesse qui col pedone qui sei molto più stabile ma col pedone in f3 hai troppe debolezze si è un pedone diciamo che deve stare salvo casi eccezionali non deve stare a casa col centro chiuso si può fare per esempio su a6 f3 va benissimo l'importante su c5 è che non apri qui se vuoi fare g4 e h4 ci può stare è la stessa posizione praticamente ma il fatto che non ci sia stato questo cambio cioè se il nero fa c per d qui col bianco faremo magari non a te piace fare alfiere d3 in queste posizioni si presa presa e qui se giochiamo questa posizione non è così aperta giusto non stanno arrivando grossi problemi poi arrocherò lungo e diciamo tutto va bene è anche vero che lui appena appena esce col cavallo in c6 poi ha una torre in c8 puntata sul mio sì qui ce la giochiamo qui ce la giochiamo sul gioco concreto per esempio cavallo c6 è sbagliata perché ti faccio g6 ecco io so che g6 è teoricamente un'ottima mossa però quello che noto è che poi uno esce fa f6 e io ho finito c'ho il mio pedoncino lì poi magari puoi fare anche f6 poi devi attaccare e6 qui a rocco lungo e poi faccio il modo di attaccare e6 con le torre qui è proprio persa questa posizione vedi come tu vedi le posizioni che dici questa è persa per me questa è una partita tutta da sviluppare che boh sì vabbè devi ancora portare in gioco la torre per esempio se il cavallo stesse fuori farei la mossa torre 1 e vincerei subito ma non vedo cosa può fare il nero per impedirmi di fare cavallo h3 e poi torre h1 cioè il nero potrebbe attaccare sulla colonna c ma arrivo prima io sicuramente come fa ad attaccarmi cavallo b6 torre 1 già sto minacciando qualcosa devi fare probabilmente donna d7 non è escluso che ho mosse tattiche come donna f5 per esempio oppure se voglio giocare probabilmente meglio porto il cavallo in f4 e sarà finita porti il cavallo in f4 anche il nero ha dei pezzi per attaccare però io sto proprio arrivando subito chiaro chiaro ok puoi fare alfiere d6 forse ma la vedo comunque brutta quindi tu dici comunque è una posizione perché io mi ritrovo spesso in queste posizioni qua cioè sono messo bene mi posiziono e poi però dico no questo è chiaramente vincente sono posizioni diciamo con attacco e contraattacco ma è molto più pericoloso l'attacco del bianco perché c'hai un pedone g6 i pedoni molto avanzati sono utili per fare matto certe volte c'hai tanti temi di matto e poi c'hai già delle colonne aperte anche il nero ce le ha ma non riesce ad arroccare e se dovesse fare arrocco lungo vai a mangiarti h5 e dai matto rapidamente cioè diciamo il re del nero non troverà mai pace in questa posizione il re del bianco per un po' diciamo sta al sicuro ne andrà in b1 chiaro questo è molto importante cessione del centro mosse laterali del pedone e la spinta del pedone f che è molto molto pericolosa e poi per concludere diciamo in bellezza volevo farti complimenti invece per una partita che mi è piaciuta molto per come perché se giochi così che è questa qui che sembra una partita ma in realtà sono queste le partite che permettono veramente di vincere di giocare bene cosa è successo qui giochi la tua difesa caro can quindi più o meno un grande classico advanced variation advanced variation c3 non è granché perché ti permette di giocare liberamente con i pezzi giusta la presa e l'inchiodatura giustissima lui ti contro inchioda ma non fa niente ecco vedi qui hai reagito perfettamente in maniera zen ti sta inchiodando benissimo prepari la tua continua lo sviluppo questa perché è una posizione che conosco bene quindi dico ok so che sono sono tranquillo lì ma hai usato gli stessi principi cavallo e7 prepari l'arrocco molto bene continui a preparare l'arrocco benissimo e voglio andare su d4 chiaramente voglio mettere pressione su quel pedone in d4 fantastico guarda hai giocato perfettamente cioè non posso dirti una sola mossa che non avrei fatto come l'hai fatta tu perfetto hai spezzato l'inchiodatura in modo naturale arroccando sviluppato tutti i pezzi stai attaccando cioè eccellente ok così devi giocare cioè giocando così hai giocato perfettamente in maniera proprio accademica alfiere per c6 vuole risolvere il problema di d4 ecco il tuo avversario fa la stessa cosa che io ti ho detto prima mosse inutili non ha un piano si capisce io so benissimo che lui ha fatto questa mossa ma non sapeva che fare l'ha fatta per muovere ok che probabilmente col bianco devi fare devi attaccare c6 probabilmente farò torre fc1 torre ac1 torre fd1 per difendere d4 e tu giustamente giochi a5 bella adesso stai bloccando questi pedoni stai facendo una casa come si nella strategia schiacchistica si dice casa forte no? una casa in cui puoi mettere un bel pezzo e nessuno gli dà fastidio già ti sei preso un vantaggio e qui ha sbagliato però non importa il fatto che abbia sbagliato poi dopo sei stato molto lucido infatti mi è piaciuta come costruzione e come realizzazione Monti diamoci l'obiettivo di aumentare la percentuale di realizzazione ok? immagina che sei un attaccante che sta solo davanti al portiere allora all'inizio magari puoi sbagliare il portiere è forte è troppo alto non sai dove tirare eccetera ma a un certo punto nella tua mente deve essere sono solo davanti al portiere e la percentuale è altissima siamo su un 90% ok? quindi questo si fa innanzitutto come in questa in questa area sei stato molto bravo perché si vede che eri concentrato hai soltanto verificato ok? hai messo l'alfiere e vedi bello protetto lui sbaglia ancora e tu ne approfitti ok? e quasi sempre è così cioè se uno è concentrato lui sbaglia e tu ne approfitti ok? questo è il buon ritmo però devi essere concentrato concentrato significa per esempio il sistema che ti ho dato delle debolezze tattiche e delle mosse forzanti comincerai a usarlo inconsciamente però quando vedi che la posizione è molto tattica oppure c'è un grosso vantaggio oppure c'è l'attacco cioè là devi veramente dire ok fammi ragionare bene qua fammi ok la donna è in difesa capito? devi proprio veramente vederle queste mosse e nella tua mente farle e eventualmente confutarle ok? cioè devi passare in modalità proprio non passa più niente cioè qui si va dritti fino alla fine la difficoltà perché trovo è che se io devo risolvere un problema dove so che c'è la soluzione cioè nei problemi che ho è matto entra e mosse oppure il bianco muove e vince non so quanto e come però so che vince so che la soluzione c'è se invece io guardo questa posizione magari non c'è il matto entra e mosse cioè quindi la cosa che che ho è che se uno mi dice lì c'è la soluzione mi metto lì ragiono e magari prima o poi la trovo dipende dal livello di difficoltà se invece non lo so è è un po' sono al buio ecco sei al buio però le cose importanti da verificare sono ci sono minacce sul re ci sono minacce sui pezzi importanti oppure posso minacciare il re posso minacciare pezzi importanti cioè questa deve essere per te pane quotidiano routine in ogni partita queste cose succedono ok oggi abbiamo parlato di cose ideali il pedone laterale il centro queste sono bellissime favole ok poi ti aiutano per carità perché quando tu giochi la partita già avrai delle chiavi in più per fare le tue mosse o per capire le mosse che ti fanno eccetera però stringi stringi che succede che a un certo punto è un corpo a corpo fra pezzi ok gli scacchi come abbiamo cominciato a dire che sono 99% tattica sono questo continuo e costante corpo a corpo fra pezzi che si sfiorano si toccano sempre in continuazione ovviamente succedono interazioni delle quali non c'è nessuna importanza non ci interessano ma le cose proprio forti importanti il re la donna i pezzi non difesi basta soltanto che ti concentri basta che tu ci pensi ok in ogni tu pensa tu pensa per esempio davvero all'attaccante che ha il gol fatto come può sbagliarlo eppure lo sbaglia tante volte sbagliano come è possibile perché sfugge proprio l'essenziale sfuggono le cose talmente semplici che uno si perde in tante come non volevi fare non a c3 per non doppiare i pedoni ma è una torre in più capito alla fine c'è grosso vantaggio di materiale matto in poche mosse basta stare a guardare devi proprio concentrarti sui fondamentali ok ok e vedrai che i tuoi avversari la maggior parte il 99% dei giocatori non fa questa cosa perché si gioca in maniera molto frenetica molto sembra che ogni mossa abbia la stessa importanza dell'altra e che ogni cosa abbia la stessa importanza delle altre cose se tu invece la fai sta cosa rimani freddo e lucido e dici ok io mi conservo le energie migliori per queste cose lì finirà come questa partita lui ti minaccia matto ma tu l'hai visto prima fai cavallo f5 forchetta difensiva e ti mangio il pezzo si capito lo vinta questa si si l'hai vinta l'hai vinta l'hai vinta l'hai vinta giocatori parlando di ranking che è una cosa che uno giustamente come dici tu andrebbe guardato dopo il match il ranking quando vedi giocatori a volte c'è una partita e alla fine c'è Stoccom ti dice guarda il tuo livello di questa partita è stato 2000 1800 cioè a seconda quanto è indicativo quello cioè indicativo indicativo significa che hai giocato delle buone mosse è indicativo come ok chiaro e come spieghi il fatto che magari questo giocatore è 1480 e magari vai a vedere il suo best ranking era 1700 com'è possibile che un giocatore ha una variazione così come dire ampia e ci possono essere tante spiegazioni ovviamente la forma lo stato di forma cioè può essere che magari un giocatore che quando gioca bene gioca bene quando gioca male gioca male oppure ci sono giocatori più costanti che magari non avranno un best molto più alto rispetto a quello che è il loro punteggio abituale e che hanno altre qualità a me io per esempio sono un giocatore che ha una grossa differenza fra quando gioco bene e quando gioco male molto molto grande che secondo me è un qualcosa di migliore come parametro non c'è credo una spiegazione univoca dipende secondo me un pochino dal momento di questo giocatore ci può essere che il giocatore magari prima aveva più tempo per giocare seriamente adesso magari sta facendo che ne so una partita e contemporaneamente sta lavorando sta facendo un'altra cosa e quindi magari davvero la perde perché non può fare la mossa altrimenti lo licenziano ci sono tante ci sono tante possibilità quello che penso è il ranking o comunque il punteggio indica sempre un momento ben preciso per cui non indica la vera forza del giocatore ok per questo dico che guardarlo non è così importante una di quelle cose nelle quali io come atteggiamento avrei gioire quando lo vinco e non essere triste quando lo perdo giusto perché alla fine non dice veramente chi sei ok non è non è proprio indicativo al 100% però per esempio se tu nelle tue partite quotidiane nella tua routine quotidiana guadagni che ne so 40 punti e beh puoi essere sicuro che le hai giocate bene quelle partite sei stato concentrato e se li perdi 40 punti è probabile che non eri concentrato magari stavi facendo altre cose o con la mente stavi pensando altre cose capito come dicevo il mio coach ogni partita fa storia a sé che è esattamente questo concetto perché a volte giochi con uno che in teoria è un carciofo e invece in quel giorno entra tutto è Nembo Kid tu non la tiri dentro mai cioè e quindi non fa mai testo dipende pure dalle posizioni per esempio il carciofo magari è fortissimo a giocare una cosa esatto fortissimo però in tutte le altre è catastrofico e tu sei sfortunato che gli stai facendo giocare quella cosa in cui è fortissimo e a quel punto il carciofo carattere senti Piera è stata veramente intensa questa me la devo riguardare perché anche qui ho preso un sacco di spunti e poi ecco vedere le partite nelle mie situazioni reali mi aiuta un sacco perché mi apre delle opzioni perché se no io gioco sempre la stessa cosa vado a macchinetta e faccio sempre la stessa cosa senza ragionare magari sul perché avrebbe senso una mossa di più o di meno ecco questa è una delle cose che faremo molto presto te lo anticipo lo so che è brutto perché le aperture per lo scacchista sono un po' come la coperta di Linus lo so che è brutto perdere il proprio comfort ma è importante ampliare un pochino gli orizzonti quindi soprattutto col bianco che è più facile comincia un pochino a variare strategia perché soltanto affidarsi sul pawnstorm è soltanto un'arma che funziona molto bene perché i tuoi avversari vengono un po' colti alla sprovvista o comunque è una strategia molto valida però ce ne sono tante altre per esempio basate proprio sul piazzamento dei pezzi sul gioco al centro quindi queste idee che ti ho dato comincia qua e là a utilizzarle vedi un po' che succede anche soltanto per pensare un altro consiglio che ti posso dare nelle prime mosse anche se già le conosci prova a pensare 5-6 secondi prova a pensare un minutino ok così spezzi la meccanicità prova a pensare prova a essere creativo subito perché io invece vado in automatico secco dritto cos'è lo so lo so le prime vado br 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 tanto lasso già questa è un trucchetto dei professionisti quello di pensare anche se già sai che mossa farai perché ti aiuta un pochino a calmare il flusso se no diventa un po' incontrollata giusto giusto pierre sei stato meraviglioso come al solito noi ci rivediamo tra una settimana io proseguo nei miei esercizi match routine insomma adesso sono a casa quindi ho senz'altro più tempo mi merco adesso vedi il mio istinto sarebbe essere gioco sette ore di fila match su match invece no 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 non giocherò tutti i match che vorrei e ci giochiamo prestissimo allora Monti io ovviamente ogni settimana cerco di dargli di essere più cattivo con te immagino adesso ti do un piccolo compito sì cioè in una partita al giorno che però sarà una partita bonus quindi da sei ne puoi fare sette sono sono buono nel darti questa cosa in una partita bonus gioca un'apertura del tutto casuale sia col nero che col bianco non giocando male casuale nel senso che non la conosci improvvisa totalmente cercando di giocare solo sul buon senso non lo sai che devi fare e col punteggio la gioco? sempre col punteggio che miseria però io così e cioè a quel punto è un disastro perché mi esco da qualunque tipo di logica ma secondo me potresti avere delle belle sorprese ok prova 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 pensa devi pensare alla prima mossa prova f3 f3 no 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 devi fare cose buone cioè non casuale che ti trovi in difficoltà cercando di giocare le mosse migliori che per esempio col bianco fai e4 e vedi che succede va bene mi spavento questa cosa mi temo lo so lo so va bene no no proverò questo effettivamente non l'ho mai provato ti farò sapere l'esito ecco l'esito di questi di questi speriamo tutti di vedere cosa improvviserà Monti la cosa curiosa mi ha colpito perché in molti mi hanno detto no ma pubblica anche le tue partite così vediamo i progressi e quindi adesso questa settimana pubblicherò non so se insieme a questo video insomma separatamente provo a postare qualche partita no bene mi piace molto Pier è stato molto interessante invito tutte le persone ad andarsi a rivedere anche questo video perché hai dato una serie di input che secondo me sono molto molto utili davvero ci vediamo prossima settimana Pier complimenti ancora per la tua prestazione per la tua targa grazie grazie quando vieni a Brighton andiamo a fare la sfida al chess club di Brighton io dico ho portato un amico e faccio fantastico fantastico assolutamente ciao Pier alla prossima ciao alla prossima